Il centrocampista della Lazio Matteo Guenduzzi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del portale francese Carré. Queste le sue parole. Perché ho deciso di lasciare l'OM? La domanda dovrebbe essere, perché ho deciso di firmare per la Lazio? Il mio trasferimento era legato al fatto che io ero venuto per uno stile di gioco con San Paoli, che era davvero adatto a me e con cui avrei potuto rendere al meglio in campo, per aiutare la squadra e mostrare tutte le mie qualità. Ho avuto l'opportunità di andare alla Lazio con un grandissimo allenatore, Sarri, NDR. Si trattava di un grande club italiano che giocava alla Champions League. È stata una scelta ponderata, sono felice alla Lazio e sono molto soddisfatto. Sapevo che mi volevano. Mi hanno mostrato davvero un forte interesse. Mentre parlavo con loro, ho fatto alcune ricerche e ho capito che fosse una buona scelta. Il fatto che giocassero in Champions League e con un grandissimo allenatore come Sarri mi ha fatto venire ancora più voglia di andare alla Lazio.